Chi volesse vedere contenuti inediti inerenti al podcast può trovarli sul nostro profilo Instagram OneMoreTimePodcast. Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona, vi aspetto sul canale Telegram attraverso il link in descrizione. Io sono Luca e questo è OneMoreTime. Io non ero ristoratore, non sono ristoratore, non ero direttore creativo, non sono direttore creativo, non ero uno che lavorava nell'ambulanza. Cioè, lo ero ma non lo sono. Io non sono quello che faccio. Quello che faccio mi serve per diventare uno, qualcosa. Se l'albero si vede dai frutti, si riconosce, penso di aver fatto qualcosa in questi anni. E quindi io non sono legato né a un hamburger. Io scrivo di libri legati al marketing, alla psicologia soprattutto. E quindi la gente non sa mai come interfacciarsi con me. Ma allora, lui sa fare i panini? O sa scrivere libri di marketing? Quindi è difficile che la gente ti apprezzi. Ti apprezza sempre nella penultima cosa che hai fatto, perché la dimostrazione è che la sapevi farla. Si parte dall'inizio. Ho già pensato al titolo, non lo faccio mai? Normalmente il titolo lo scrivo dopo, della puntata dopo aver intervistato. E il mio provvisorio è Simone Ciaruffoli, dalla fame a Burghez. Perché secondo me è molto attinente alla tua storia. C'è una storia. Perché uno dice, Burghez, vabbè adesso ci racconta come l'ha fatto. Ma forse è l'ultimo pezzettino. Ma c'è un pezzettone gigantesco prima. Ho visto diverse tue interviste, con diverse figure su YouTube, dove racconti il business. Ma non ti ho mai sentito raccontare la tua storia personale. Mi ha toccato, perché non è per nulla banale. Nel senso che mi hanno chiesto tante volte durante questa stagione di cominciare a parlare di persone comuni. Quindi di raccontare storie straordinarie, ma di persone sconosciute. Se tu non avessi fatto Burghez, per la storia che tu hai, ti avrei intervistato comunque. Perché è sorprendente. Ci vuole tenacia. Nel senso che si fa meno fatica a prendere una strada sbagliata, quando si è in una determinata difficoltà, soprattutto emotiva. Poi entreremo nel 2001, entreremo in un anno abbastanza fatidico a livello emotivo. Però sto spoilerando troppo, non lo faccio mai. Quindi partiamo dall'inizio. In che anno nasci? In che famiglia? Come hai rimesso a coccole? Ok. Allora, intanto devo dire che questa è probabilmente la mia prima seduta psicanalitica. Perché solitamente non parlo di me stesso. L'ho fatto in un libro, però anche quella è stata una sorta di seduta. Mentre lo scrivevo, durante il lockdown. Quindi è stata una cosa per me importante, perché io non sono capace di parlare di me, ma sicuramente di ciò che faccio. E quindi oggi per me è una cosa nuova. Ti dico solo una cosa. Io nel 2008 ho fatto il metodo Hoffman. E prima di farlo, ci sono due iter. Uno è un incontro con, in quel caso, la psicoterapeuta che l'ha cofondato, che ti dice se sei idoneo nel poterlo fare. Ma poi c'è il materiale preparatorio. E lì per la prima volta nella vita, io come sempre l'ho fatto all'ultimo. Invece ti dovresti prendere almeno una settimana di tempo per farlo con calma. E ti facevano domande così profonde. E forse è quello che mi ha insegnato quello che oggi è One More Time. Che mi ha fatto fare delle riflessioni, ma anche dei pianti da solo. C'è dei momenti che mi ha fatto ripercorrere delle cose a cui non avevo mai pensato. Quindi quando tu mi dici questa cosa, mi hai fatto venire in mente il mio momento del materiale preparatorio. Però ti fa bene perché in modo di da scalico cominci a ricostruire la linea della vita. Esatto. E a dare un senso alle cose. Però scusami, sto continuando a parlare di me. No, no, ma questa è la tua puntata. È interessante. Tra l'altro io sono uno, e poi parto anche io, che dimentica tutto. Quindi io difficilmente ricordo le cose del passato. Io avevo semplicemente il presente. Quindi se mi chiedi tre anni fa cosa hai fatto, dove eri, difficilmente io te lo so dire. Ok. È imbarazzante questa cosa, ma chi mi conosce lo sa. Quindi devo fare uno sforzo importante. Nasco il 10 settembre 1970, e questo non lo ricordo, a Fano. Fano è una cittadina delle Marche, un po' democristiana, si sta bene. Democristiana nel senso che non è né marchigiana come Senigallia, che sta poco sotto, né romagnola come Pesaro, che sta poco sopra. È lì, simpatica, carina, però è una città che ti dà poco, diciamo. Molto carina, si mangia bene, è bella, però ti dà poche possibilità. Nasco nel 70. Figlio unico. Nascono dopo i tuoi fratelli. Per otto anni me la spasso, sono figlio unico. Quando dici me la spasso vuol dire che eri al centro dell'attenzione, eri coccolato, era tutta per te l'attenzione dei tuoi genitori, com'era? No, non sono stato mai coccolato, mai. Neanche un secondo. Se qualcuno lo faceva mi dava anche un po' fastidio. Quindi io per otto anni me la sono spassata, nel senso che ero l'unico in casa, diciamo, e sono stato sempre un bambino abbastanza naturo. Io ero il tipo che a sette, otto anni prendeva il treno e andava a Rimini, senza dire niente ai miei genitori. Tornavo la sera, loro non si accorgevano, ma stavo via una giornata intera. Mi nascondevo nel bagno del treno, uscivo quando era ora, scendevo. Anche più di Rimini, io ricordo una volta a Milano, ma forse questo è un po'... Io ho un figlio che sta per compiere otto anni, pensare che per il treno solo o che si nasconde in bagno mi verrebbe una sincope. Erano altri tempi, ma i miei genitori sono sempre fidati tantissimo di me. Ok, proprio per questa maturità di cui tu parli? Probabilmente sì, delle volte mi chiedevano anche dei pareri a sette, otto, dici anni. E quindi stavo sempre solo, non ho avuto amici, diciamo, quindi giravo intorno a Fano, scoprivo, andavo in campagna. Correvo, mi piaceva correre, ma correre così per correre. Mia madre era una operaia, una fallegnameria, e mio padre era rappresentante della Loria. Cerco di ricordarmi tutti i dettagli perché comunque mio padre è un altro come me che ha cambiato un sacco di lavori. E in quel momento doveva essere il momento della Loria, sì. Quindi la mia vita è stata abbastanza tranquilla, primi anni, diciamo. Giocavi da solo perché non ti piacevano in generale gli esseri umani, i bambini? Perché? Perché non mi trovavo bene. Non eri a tuo agio? Non ero a mio agio. Infatti io tendevo a stare sempre con quelli un po' più grandi di me. Ok. Quindi otto anni, dieci, undici. La mia prima fidanzatina aveva dodici anni, quando ne avevo otto. Nonostante io abbia dimostrato sempre, da piccolo soprattutto, dieci anni meno di quanti ne avessi. Come facevi a farti accettare da quelli più grandi quando avevi otto anni? Perché è difficile che un dodicenne giochi con un ragazzino di otto, no? Normalmente o hai qualche skill, qualche caratteristica o sennò ti buttano subito fuori al gruppo? Non parlavo, ascoltavo e parlavo poco. Quindi non davi fastidio? No. Ascoltavo e parlavo poco. Questo anche più avanti, quando avevo diciotto, vent'anni stavo con quelli di trenta, magari trenta, trentacin, anche con i miei coetanei adesso. Però non ho mai parlato più di tanto, sono sempre abbastanza in ascolto. Quando nasce tuo fratello, che tu hai otto anni, però pensiamo a te, dodicenne, lui che ne ha quattro, con lui invece giocavi, avevi un bel rapporto o anche lì ti isolavi? Non più di tanto. Un rapporto fraterno, ovviamente gli ho sempre voluto bene, c'è anche l'affetto, ma non fisico. Però no, così in casa non siamo mai stati abituati ad avvicinarci più di tanto. Quando c'era un problema in casa, quando facevi una cazzata, come si affrontava? Visto che c'era poca empatia da quello che tu mi dici, come affrontava un momento, diciamo, di rimprovero, o volendoti impartire un'educazione, o tuo papà, o chi era il più severo dei due intanto? Nessuno dei due. Ok. Non erano mai severi? Difficilmente. Devo proprio farla grossa, tipo spaccare la macchina di mio padre, cose di questo tipo. Se no non c'era, come dire, la riunione di famiglia? No, non mi hanno mai insegnato niente. Non mi hanno mai educato, però ho imparato tanto da loro guardandoli. Non avevano la presunzione di dirmi, devi fare questo o quest'altro. Io davvero, se a otto anni gli dicevo, vado a Milano, loro dicevano, va bene. E come andavi a scuola? Essendo molto autonomo? Mia mamma mi ha insegnato a leggere e a scrivere già quando avevo quattro o cinque anni. Quindi diciamo che ho campato di rendita fino a tutte le elementari. Andavo abbastanza bene. Poi dalla prima media un casino totale. Bocciato più volte. Per la disciplina? No, non tanto. Non mi interessava. Mi interessava altro. Tipo cosa? Tipo muovermi, scoprire, leggere robe che interessavano a me e quello un po' più avanti. Poi ne parleremo magari. E quindi mi piaceva stare fermo in un banco per quelle quattro, cinque, sei ore. E andavo bene solo nelle materie che mi interessavano, che potevano essere lettere, italiano, geografia. Per il resto, niente. Vai fino alla maturità? No. Ti fermi alle medie, alla terza? Mi fermo prima, sì, perché poi succede che casualmente, più o meno a 13 anni, sono in macchina con mio padre e succede che sulla sinistra, vicino Fano, vede una gara podistica. Sta partendo una gara podistica. E mio padre ha questa intuizione, perché non la fai? Io dico, cosa? La gara? Di cosa? Di corsa? Ma in che senso? Non capivo, perché non avevo mai corso. Però avevo una tuta. Forse l'associazione è stata questa, banalmente. Una tuta e un paio di scarpe alla ginnastica. E niente, lo proviamo, scendiamo dalla macchina. Al momento? Al momento. Partivano dopo una ventina di minuti. Non riesce a farmi iscrivere per dieci minuti, poi mio padre si incavola, perché non appartenevo a nessuna società di atletica leggera. Quindi è riuscito a farmi iscrivere lo stesso alla gara. Parto, io con la tuta, imbarazzante, restate, le loro canottiere, pantaloncini, scarpe tecniche anche allora. Parto, erano credo tre chilometri e mezzo, vista l'età, quattro chilometri. Niente, vinco la gara. Sto dietro loro, perché non sapevo cosa fare, sto dietro i primi, i primi due, i primi tre, e gli ultimi cento metri li batto in volata. Ma non sapevi quando scattare? Non sapevo neanche la strada. Quindi seguivo i primi. Sono, e questo si capirà dopo, sono molto competitivo, quindi probabilmente quello che è scattato in me è stato proprio il principio di competizione in quel giorno, che poi avrei scoperto maggiormente dopo. La vinco. Tutti imbarazzati, gli altri, perché io non avevo neanche la canottiera. Visto questa intuizione, mio padre la domenica dopo, in un paese, in provincia della Romagna, me ne fa fare un'altra. La vinco. La domenica dopo me ne fa fare un'altra, la vinco. La domenica dopo avevo già la canottiera e la maglietta, ma non ero iscritto a nessuna società. Quindi vengo tre care di seguito. Inizio a fare atletica, inizio a diventare un professionista, non vado a doppia scuola, mi alleno mattina e pomeriggio e vado a scuola serale. Quando voglia, quando mi ricordo. Spesso mi addormento in classe. Quindi già da piccolo mi allontano. Vuoi perché non mi interessava, vuoi perché poi in atletica leggera divento, tra virgolette, qualcuno. Diciamo ero un balotelli giovane, si diceva, nel 17enne. Ero ancora a Union Ores, quindi gli Ores non si conoscono in atletica leggera come i giovani del calcio, diciamo. Però avevo gli sponsor, avevo prima l'Asics, non si chiamava ancora Tiger, poi la Nike. Comparivo spesso sulla gazzetta, firmavo gli autografi nell'ambiente dell'atletica leggera, ovviamente. Quindi sono andato avanti così fino a 23 anni. A dieci anni? Sì, più o meno fino a 23 anni, senza studiare, senza leggere, senza né arte né parte. 23 anni vuol dire 93, però nel 92, lo ricordo perché ero fanatico di basket, c'era il Dream Team a Barcellona nel 92, ci sono le Olimpiadi e so che intanto tu prima diventi campione italiano. Sì, divento campione italiano più di una volta, sono quinto nelle gradatorie mondiali, primo in quelle europee, sono anni, sono belli anni. Non ho voglia di correre, l'ho sempre detto. Cioè nel senso, non ti piaceva farlo ma non volevi sprecare quel talento, quel dono? Bravissimo, bravissimo. Mi sembrava troppo grande. Non ho detto che poi mio padre inizia a allenarmi. Prima mi hanno allenato due allenatori che non hanno tirato molto fuori da me. La motivazione? Probabilmente sì, ma neanche i risultati. Poi già a 15 anni, 16 anni, mio padre inizia a studiare. Quindi non aveva corso, non sapeva niente, ma conosceva suo figlio e sapeva tirarli fuori da casa. E inizia a allenarmi e dopo poco inizia a avere i risultati, grazie a lui. Quindi da una parte non volevo smettere perché riconoscevo un talento, dall'altra parte non volevo smettere per non dare un dispiacere a mio padre, che lì oltre al lavoro aveva trovato una soddisfazione. Infatti mezza Italia in quel periodo voleva farsi allenare da lui. Solo che lui diceva a tutti, io ero mio fratello, non perché mi piace allenare, non perché mi piace allenare, ma perché è mio figlio. Tra l'altro non lo chiamo Babbo, ma lo chiamo Bruno, quindi per quello forse è venuto mio fratello, lo chiamo da una vita Bruno, non Babbo. Normalmente quando si chiama il proprio papà per nome non è un distacco emotivo, perché normalmente lo si stima. Esatto. È per questo? Esatto, tutti lo possono chiamare Bruno, ma io no, e quindi mi sono detto da ragazzino che lo voglio chiamare anch'io Bruno, e l'ho sempre chiamato così. Poi nel 92 sono nella Rosa di Barcellona per andare alle Olimpiadi, nel 1500, e mi faccio male in autoscontro. Cioè batto banalmente Luna Park, sì, batto il ginocchio e non vado. Ovviamente avendo studiato un po' di psicologia negli anni dopo, gli anni successivi, non dico che è stata un'azione volontaria, ma quasi. Non vai se sei un atleta professionista a fare queste stupidaggini. E quindi smetto. Smetto. Finalmente ho la scusa per smettere. Non vedevi l'ora? Dentro di me sì, non vedevo l'ora. Ti faccio una domanda. Quando tu, nel nucleo delle persone appassionate al tuo sport, facevi gli autografi già a 13, 14, 15, hai detto ero qualcuno. Sognavi di diventare qualcuno quando tu eri così silenzioso, a esplorare il mondo ed eri più ragazzino? Che effetto fa sentirsi qualcuno? Era bello. Era bello perché il fatto che qualcuno ti apprezzi per ciò che sai fare e non per ciò che dici, per ciò che millanti, ma per ciò che sai fare. Nell'atletica leggera c'è il cronometro, parla nei risultati. Era molto bello. Poi, sai, essere qualcuno, soprattutto poi molto giovane, quindi ancora junior, poi sono passato senior, certo. Poi ho smesso quasi subito. Non è come nel calcio che ti conoscono tutti, quindi non c'è quella esagerazione, magari ti monti la testa. Io l'ho conosciuto, ho conosciuto nell'ambiente. Veniva lì. Quando nel 93, 23 anni smetti, prima però scopri la passione per la lettura, perché a Fano c'è una delle più grandi, o la più grande biblioteca d'Italia. Sì, la seconda. Quella più avanti, quella addirittura nel 98. Ok. Nel 92, 93 diciamo che smetto di correre, ma, ripeto, non è arte né parte, quindi devo fare qualsiasi lavoro. Che reputazione hai a 22, 23 anni? Chi sei per gli altri? Sono quello che corre, semplicemente. Ok. E fuori dalla corsa, quelli che ti conoscevano da scuola e tutto, come ti etichettavano? Come quello che probabilmente non faceva niente a scuola, quindi fortunatamente ha trovato questo talento, perché se no chissà che fine faceva. Quindi quando ti sei sentito qualcuno, grazie al tuo sport, prima nel tuo silenzio ti sentivi stimato dagli altri o no? Che posto avevi al mondo prima di quel momento? No, no. Non credo di essere mai stato stimato, soprattutto in passato, perché parlavo poco, è vero, ma quando parlavo ero... dicevo sempre quello che pensavo, quindi non ero tanto simpatico. C'eri molto diretto. Moltissimo, imbarazzantemente. Adesso non sono più così. Poi ho capito nel tempo che essere così diretti significava avere un problema, perché devo dimostrare a tutti i costi di essere più intelligente o di sapere quello che ti è successo prima di te addirittura. Ok. E quindi, piano piano... E' andato a scemare. Sì. Hai smussato. Sì. 13 anni smetti di andare a scuola all-in nello sport. 10 anni. Poi, quando ti manca quella quotidianità, come colmi? Scopro tutto quello che non ho scoperto prima. Quindi io fino a 23 anni non avevo bevuto un bicchiere di vino, non sapevo cos'era la birra, non sapevo niente, perché poi quando mi mettono una cosa sono preciso. Non sgarro. Ero davvero un professionista. Professionista, sì. Quindi non mi interessava niente al di fuori di quello che stavo facendo. La vita è dura, perché comunque non ho niente, un diploma di terza media. Poi negli anni, non mi chiedere in che anno riesco a prendere la quarta. Ok. Non il quinto. Probabilmente due o tre anni dopo. Frequentando le serali questo? Frequentando le serali, sì. Quando ti ricordavi? Quando mi ricordavo, esatto. E cosa succede? Succede che nel 93 sono fortunato, cioè sfortunato, vado a lavorare come operaio in un'azienda che carteggiava gli spoiler per la Renault. Ok. Per le auto della Renault. Mi muovo abbastanza bene e dopo un mesetto chiedo loro se danno a me l'appalto della carteggiatura degli spoiler. Quindi mi metto in un angolino del capannone, apro una partita IVA e lo faccio per voi. Nei loro spazi? Nei loro spazi, sì. Ok. Ci stanno, lo faccio, per diversi mesi guadagno un sacco di soldi, non li ho mai visti. Da solo o avevi anche un altro? Da solo, poi chiamo anche un mio amico. Ok. E lo facciamo in due. Da una mattina alla sera, dalle sette, sette e mezza, fino alle dieci di sera. Una cosa incredibile. Mani spaccate. Infatti il mio amico poi è scoppiato, a un certo punto se n'è andato e ho continuato da solo. Andava benissimo, stavo facendo un sacco di soldi, non mi ricordo quanti, ma diversi migliaia di lire. Risparmiavi? No. Non ho mai risparmiato un euro. E a un certo punto decidono di riprendersi in house il progetto della carteggiatura dell'ISPO, a valere quindi finisce lì. Diciamo che io ho sempre lavorato, quindi poi ripensandoci da 14 anni, perché lavoravo mattina e sera quando mi allenavo. Poi subito, appena ho smesso, ho fatto solo, tra virgolette, l'imprenditore. Questa cosa l'ho capita molti anni dopo. Quello era stato un principio, insomma, di imprenditoria. Poi da lì invece ci sono rimasto molto male, devo dire la verità. Mi ricordo questa cosa qua che mi dissi, forse non mi ricapita una cosa del genere. E iniziare a lavorare, fare tutti i lavori. Dal moratore a lavorare allo stabulario del pesce, dove avviene l'asta del pesce, dove si compra il pesce, quindi mi svegliavo alle due di notte. Lavorare ai mercati, ho fatto per diversi anni i mercati, vendevo abbigliamento. Vivendo sempre a Fano questo? Vivendo sempre a Fano. Nel frattempo però leggevo, avevo iniziato a leggere, avevo scoperto che leggere era bello. Leggevo tanto, studiavo tanto. Cioè ti sei voluto fare da autodidatta la tua cultura perché ti davano dell'ignorante o perché ti sentivi di ignorare troppe cose? La seconda, sì. Quindi mi sono accorto che studiare, quello che volevo studiare, mi piaceva tantissimo. Io perdevo anche tutta la notte per studiare. Andavo a lavorare il giorno dopo senza aver dormito. Literatura russa, francese, postmoderno, statunitense, filosofia, psicologia, fisica, tappe sulla fisica, un sacco di cose. Come ti hanno introdotto nel mondo della lettura? Come varchi la soglia della biblioteca la prima volta? Chi ti dice, parti da questo titolo? C'è sempre qualcuno che ci indottrina, che ci introduce, no? Sì, sì. La lettura, semplicemente la lettura, quindi parto da Siddhartha, credo. Sì. Una ragazza, come al solito, una bellissima ragazza, e mi disse una volta, hai letto Siddhartha, e io le chiesi, cos'è? È un libro, prova. L'ho lessi e mi piacque. Da lì ho iniziato a leggere che abbiamo aggiornato lì, visto come se avessi otto anni. E poi ho iniziato piano piano a leggere cose sempre un po' più, diciamo, di spessore. Fino a che, nel frattempo, faccio mille lavori, faccio il disgaggiatore, questa è una cosa interessante, pochi sanno che cos'è. Il disgaggiatore è quello che mette le reti paramassi sulle pareti delle montagne. Ok. Un elicottero le cala e tu sei legato alla parete, armato, e fissi la rete che piano piano si esrotola e scende. Fai un corso per… No, no. Ho imparato lì. E sei in sicurezza, quindi? Sei in sicurezza e poi impari i nodi, impari a fare armarti, impari a fare tutto. Ma questa non è la cosa più singolare. La cosa più singolare è quella della pulizia delle pareti. Quindi tu liberi la strada, non fai passare nessuno sotto la strada, inizi a pulire, a buttare giù le rocce, c'è i sassolini che sono labili, sporgenti, li fai cadere prima che le intemperie li facciano cadere. Ma ancora di più, e questo è ancora più interessante, il disgaggiatore, almeno io, si occupava, non so se si occupa ancora, io lo fece a Leridania, l'azienda di zucchero, nei suoi container, ha dei container alti di 50 metri enormi. Cosa succede? che lo zucchero dopo anni che sta lì, e la parte sotto sono anni che sta lì, anzi la parte sopra, scusami, si blocca, quindi le bocchette dove esce lo zucchero, dove i camion si avvicinano per fare entrare lo zucchero, si bloccano, diventa umido, poi si secca, e diventa marmo. Lo zucchero diventa come il ghiaccio, anzi. E quindi mandavano dei vecchietti, una volta con il piccone, a rompere questo zucchero per farlo uscire. Poi è successo un sacco di disgrazie, hanno pensato di passare dall'alto. Quindi per un tono di tempo mi sono anche occupato di calarmi all'interno di questi silos con una corda, con una tuta di carta e con un martello pneumatico per rompere a 30-40 metri di altezza questi enormi ghiacciai di zucchero. Paesaggio lunare incredibile. Io qua a 30 metri, il mio collega, e legati dall'alto, perché ogni tanto cedeva lo zucchero di 20-30 metri sotto i tuoi piedi, quindi rimanevi legato, spaccavi lo zucchero da sopra invece che da sotto. Una cosa incredibile, un rumore pazzesco, puoi immaginare il rimbombo. Umidità 400%, una cosa incredibile. Quindi entravi con la tuta di carta, due secondi dopo eri tutto bagnato. E ho fatto anche questo. Quanto tempo? All'interno dei due anni del lavoro di disgaggiatore, diciamo. Poi con lo stesso lavoro ho anche lavorato sulle chiese o all'esterno dei palazzi. Sai quando il lavoro non è enorme e invece di montare sull'impalcatura chiami quelli che salgono in corda, che sono più veloci, costa meno, e ti fanno lo stesso lavoro, diciamo. Poi a 28 anni entro in biblioteca federiciana di Fano, la seconda più importante d'Italia per quantità di numero di testi sul cinema. Mi porto un amico, Emanuele Simoncelli, lo voglio citare perché non ci vediamo da una vita, e mi dico cavolo, c'è chi ha scritto di cinema? Incredibile. Io pensavo che i film ne vedevo, ne vedevo tanti, così per passione, mentre studiavo, mentre leggevo, però non pensavo fosse una cosa così seria. E nel 98 invece entro in questa biblioteca e vedo che sono 20-25 mila libri, testi sul cinema. Inizio ad andarci tutti i giorni quando non lavoro, quando riesco a ritagliarmi del tempo e dopo un mese, un mese e mezzo, sono responsabile di quella biblioteca e gli studenti di cinema vengono a chiedere a me quali libri studiare per fare la tesi su Fellini, su Jodorowsky, su Kubrick e quindi mi sento qualcuno, ma non mi pagano, quindi devo continuare a lavorare. Ho sempre lavorato alla fine, però mi dà la possibilità di iniziare a leggere un sacco di cose riguardanti il cinema, iniziare a scrivere per riviste importanti, fino ad arrivare a scrivere per la rivista di Gianni Canova e tante altre riviste da Fano. Quindi mi ricordo quando mi mandavano a vedere un film io prendevo il treno, tornavo l'indomani, dormivo per strada o non dormivo tutta la notte per prendere il treno l'indomani perché magari a mezzanotte finiva il film a Rimini o a Bologna. Qual è stata la prima cosa che ti ha fatto innamorare del mondo del cinema? Pare della critica o del cinema? Del mondo della letteratura? Ma come funziona da dietro? Perché quando guardi un film fruisci di quella cosa lì e poi finisce ma quando sai come funziona dietro hai una lettura diversa. Sì, infatti è la seconda e la terza lettura che intravedevo che mi interessava, non quella che si porta presso la trama ma quella seconda e quella terza che poi è indipendente anche dai voleri del regista stesso e quindi leggevo dei saggi su Fellini, su Otte e Mezzo, sulla Dolce Vita diciamo io non ho visto niente guardando il film e questi film di ciò che c'è scritto qua o sono stupido io o esagera questo qua perché è il suo mestiere e deve scrivere quindi deve costruire un'architettura intellettuale sopra un'altra architettura intellettuale perché sennò lui chi è e quindi non mi ha mai convinto fino in fondo questo mestiere diciamo se possiamo chiamarlo mestiere perché allora non gratuitamente anche quello quindi tanto lavoravo facevo l'operaio ho lavorato tre anni e mezzo nell'ambulanza guidavo le ambulanze della Croce Verde per tre anni tre anni e mezzo nel mentre e l'amore in tutto questo? l'amore in tutto questo? in quegli anni? c'è l'amore? sì sì però devo fare mente locale scusami ma niente di significativo cioè storie importanti? storie importanti il primo fidanzamento ho sofferto come un cane perché sono stato lasciato con una ragazza americana a che età? 18 più o meno e la conosci a Fano? sì viene a abitare diciamo davanti a casa mia anche per lei ho fatto delle cose incredibili tipo mi buttavo dal terzo piano per uscire di notte per non far sapere niente a mio padre perché quel tempo era il mio allenatore quindi mi lanciavo dalla finestra su un albero che era tre metri sotto dal terzo piano poi cadevo in mezzo ai rami e scivolavo giù mettevo anche il casco per andare a trovare alle tre di notte lei usciva da casa e ci vedevamo di notte è andata avanti per un annetto così poi il mattino dopo però mi dovevo allanare quindi era dura era tosta perché ti ha lasciato? perché ero uno stupido insicuro come al solito e quindi non è una cosa buona diciamo però ho imparato un sacco di cose eravamo a dieci anni dopo più o meno nei 28 29 quindi mi stavi dicendo lavoro perché e devo portare a casa la pecugna ero un assiduo frequentatore della biblioteca a tal punto che dopo pochissimo tempo ne divento responsabile non mi pagano? no dopodiché scrivo per delle testate quindi dopo tu capisci che come ti chiedevano i consigli in biblioteca e dici posso esprimere anche un mio parere scrivendo bravissimo e però lì imparavo un sacco di cose perché vedevo tutti quei ragazzi che facevano la tesi o vedevo dei film incredibili tipo partitura incompiuta per pianola meccanica di Nikita Mikalkov e venivo a vederlo in quel luogo perché era uno dei pochi luoghi che aveva determinati film io li vedevo con le cuffie davanti al televisore che però un po' si addormentavano un po' guardavano altrove poi alla fine gli facevo sempre la domanda com'era il film bellissimo quella cosa della moglie con il marito che ah incredibile non c'era né moglie né marito ovviamente però già questa cosa mi puzzava un po' ho avuto sempre un po' di difficoltà a stimare l'intellettuale che intellettualizza un oggetto altro cioè che non si occupa di se stesso ma si occupa di qualcun altro e costruisce la sua carriera su questo e quindi iniziavo a non piacermi più faccio un salto temporale in realtà ho scritto per diversi anni ovviamente poi però continuo fino al 2002 più o meno facciamo un passo indietro di un anno sì tu sei ancora fan nel 2002 nel 2002 sì parto nel 2002 vado a Roma nel 2001 sono ancora fan e lavoro con mio fratello Andrea come si chiamano i tuoi fratelli? Andrea e Luca Andrea è quello che ha otto anni meno? sì e Luca è quello che ne ha 11 allora nel 2001 è un anno molto particolare l'ho premesso prima che succede? io e mio fratello Andrea lavoriamo nell'ambulanza tutti e due succede che non facciamo soccorso accompagniamo come fossimo dei taxi le persone in radioterapia e in dialesi in città lontane da Fano Ancona Bologna Milano e capita un giorno che devo iniziare a portare mia madre in radioterapia o mio fratello perché ha un tumore si scopre che ha un tumore andiamo avanti io faccio questo lavoro per tre anni e mezzo poi nel 2000 e lei muore nel libro chiamo questo anno 2001 di sé nello strazio perché poi sei mesi dopo mio fratello muore quello più piccolo Luca di cui non abbiamo parlato e ha più o meno vent'anni e muore buttandosi sotto un treno a Fano e lì è come se la vita mi dicesse qualcosa o come se io volessi apprendere qualcosa dalla vita mi do una svegliata perché nel frattempo una cosa che non ho detto mio padre ha un incidente in macchina pesantissimo un frontale in macchina contro un camion due anni prima quindi quando tuo padre è in ospedale quando esce non ha più una moglie non ha più un figlio in realtà succede questo quando esce ancora tutti il problema è questo che lui per un tot di tempo non ci riconosce pensa che io sia il padre cose di questo tipo quindi sta in coma un mesetto un mesetto e mezzo poi quando esce ancora non è lui nel frattempo l'azienda che aveva aperto anni prima un'impresa di pulizie va a ramengo diciamo va a finire male lui esce scopre questa cosa e non ha più niente io non ho più niente mia madre non ha più niente nessuno ha più niente e andiamo a abitare da mia nonna che abitava nelle case popolari mia nonna la madre di mia madre questa casa è di 25 metri quindi c'è una cucina e c'è un piccolo bagno e una camera nella camera c'è mia nonna nel letto matrimoniale con mia madre che dormono insieme io Andrea e Luca per terra perché non c'era spazio e questo più o meno per due anni tre anni io continuavo a studiare facevo le mie cose mio fratello Andrea lavorava con me e Luca Luca faceva altro lavorava anche lui però adesso non mi ricordo bene dove lavorasse però cambiava lavoro perché nessuno dei tre ha mai studiato diciamo quindi eravamo dediti molto al lavoro sin da piccoli succede che mio padre esce non si ritrova più l'azienda non si ritrova più niente cosa fa da matto qual è perché lui è riuscito sempre a tirarla avanti in qualche modo lì però casca in una cosa un po' più grande di lui lui non ha più niente incontra conosce una persona non molto fidata anche se lui in quel momento non lo sa questa persona gli chiede porta questo quantitativo di cocaina in Argentina nascosta nei fondi di bottiglia quando torni il tuo compenso sarà un milione credo un milione di euro o un miliardo di lire credo un milione di euro 99-2000 insomma torna non lo beccano lui non ha mai fatto uso di cocaina non lo beccano o lo beccano non lo beccano però questo era un superpettito era uno del clan di Nitto Santa Paola per farti capire che tipo fosse c'erano state nel frattempo intercettazioni ambientali microspie all'interno della macchina quindi ricostruiscono tutto e io scopro questa cosa insieme a mio fratello e l'altro fratello e mia madre su TG di Canale 5 alla sera mentre eravamo a tavola vediamo le foto segnaletiche e tra le varie foto c'era anche quella di mio padre ma lui c'era in quel momento? no era già a Re Bibbia ok perché era un po' che non lo sentivamo come ti dicevo prima non siamo stati molto attaccati d'amore sì ma fisicamente meno perché non ti ho detto una cosa che per me sembrava normale si erano separati e te lo stavo per chiedere ma non volevo interrompere è una cosa che parte da lontano per questo sono abituato già a otto anni mi chiesero con chi volevo stare se con Bruno o con Rosanna si chiamava mia madre e quindi per me sono sempre stati separati anche in casa quindi non è una cosa strana quindi noi ci troviamo in questo piccolo monolocale mio padre ci trova in un altro piccolo monolocale che era Bibbia il 2001 succede quello che ti ho detto mio padre non lo fanno uscire neanche per venire ai funerali e quindi lui sa tutto della galera poi nel 2003 lui viene spostato ai due medicidiari a Pesaro perché mio padre era di Pesaro e mia madre di Fano è di Pesaro mio padre e quindi come dire le cose vanno avanti io capisco che c'è qualcosa che non va non posso stare ancora seppur vicino a mio fratello o a mia nonna o mia madre perché non ti ho detto che in quell'anno muore anche mia nonna muore mia nonna poi mia madre e mio fratello quindi se ne va via come dire la più anziana la portabandiera della casa mia madre muore poi muore mio fratello quindi quella casa rimane libera rimaniamo solo io e mio fratello Andrea quando tuo padre prende quel milione di euro vi aiuta non lo prenderà mai non lo prenderà mai questo è il problema sì c'è il problema non è questo però oltre al danno alla beffa quindi non ci ha guadagnato niente anzi ti posso fare una domanda certo non rispondermi se non te la senti visto che ti hai molto le tue emozioni per te sì quando tua madre muore che succede dentro di te allora quando scopro che sta male perché me lo dice te lo dice lei sì e come te lo dice mi dice che si sente un nodulo da diverso tempo però non ha mai fatto una visita e non la fa ecco che scopro poi che i sui cigli hanno diverse forme e la fa quando è troppo tardi quindi dal momento in cui inizio a fare la chemio la radioterapia vedo che si sta perdendo sempre di più la sua fine è già scritta quella sofferenza diventa un misto tra sofferenza e odio odio per vederla in quelle condizioni odio perché soffre e spero che muoia e non vederla più soffrire sì il prima possibile lei era diventata meno di 40 chili e quindi andavamo noi tutti i giorni io e mio fratello ancora Luca perché c'era ancora Luca e ad aiutare all'ospedale quindi a quel punto non vedi l'ora che riposi che si metta insomma che si metta a riposare anche lei Luca 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 era quello più attaccato a mia mamma io quando tornavo a casa lui era sempre lì che parlava con mia mamma a differenza mia di Andrea non che non le volessimo bene ci mancherebbe altro ma avevamo rapporti anche prosemici completamente diversi quindi probabilmente morta mia nonna che era diciamo il portante a farmi usare queste parole psicologiche di mia madre se ne va mia madre e Luca se ne va di conseguenza sei mesi dopo poi lui mi dissero poi gli amici che diceva spesso la vita è una merda non ho voglia di vivere questa cosa poi l'ho saputa dopo tu non avevi avvertito niente prima non ti aveva dato mai un segnale no anche se so che si drogava spesso che tipo di drogava che si era fatto anche di roina però queste cose le ho sapute dopo ok quindi enfatizzava lo portava a essere più depresso cioè a vedere la vita esatto più nera esatto e quindi scopro della morte di Luca mentre stavo guidando l'ambulanza arrivano alla sede arriva la polizia mi dice di seguirli non mi dicono niente ancora mi portano in comando mi dicono guarda ti dobbiamo dire una cosa mettiti a sedere per favore mi portano l'acqua Luca ci ha ruffo il tuo fratello sì noi pensiamo che si sia buttato sotto un treno e ovviamente bisogna riconoscerlo prima però nelle tasche abbiamo trovato le chiavi di casa l'ultima prova è se vuoi farla è andare a casa tua e vedere se queste chiavi entrano nella serratura andiamo le chiavi ovviamente entrano nella serratura quindi scopriamo che era lui e hai dovuto fare il riconoscimento o no? sono stato molto non so se intelligente l'ho fatto fare a mio zio perché non volevo che l'ultima immagine di mio fratello fosse quella brutta lì poi ho scoperto che Trenitalia ci hanno fatto causa perché non avevamo i soldi non abbiamo pagato i danni perché sai poi bisogna pagare i danni al treno quindi nel tempo fu una cosa interessante perché non avevamo un euro quindi non riuscivamo a fare neanche i funerali poi da lì capisco probabilmente inconsciamente che devo cambiare devo fare qualcosa devo lasciare quella casa di M perché portava quei ricordi sì e quindi al tempo mi fidanzo con una ragazza di Fano lei studia antropologia va a fare la specialistica a Roma la seguo abitiamo insieme hai 31 32 anni 31 32 sì io avevo sempre continuato comunque a studiare non mi ero mai fermato e quando arrivo a Roma inizio a scrivere un libro mentre faccio il lavapiatti per un ristorante napoletano a Trastevere di notte scrivo e di giorno lavoro quindi scrivo un libro che è una monografia di Kubrick non c'era ancora in Italia lo scrivo in un paio di mesi senza internet insomma non avevamo niente anche perché io ero un mantenuto perché non avevo niente lavoravo come lavapiatti però la casa era della mia fidanzata del genitore della mia fidanzata non mia quindi io diciamo che ero alle sue spalle questo libro viene pubblicato nel 2003 il libro va bene viene studiato in tutta l'università italiana ovviamente nell'insegnamento di cinema filmologia e diciamo che per me a quel tempo me lo sentivo un po' come la mia laurea nel 2003 però rientriamo a Fano perché lei finisce la specialistica e io a Roma non sono riuscito a fare più di tanto mi presentavo un po' in tutte le redazioni dei giornali più prestigiosi per scrivere di cinema ma puntualmente mi chiedevano chi la manda quindi mi manda piccone è una frase realistica e quindi sono tornato a Fano tu e Andrea dopo quello che hai appena raccontato vi unite ancora di più o vi disunite cambiate completamente vita vi distanziate come funziona no più o meno rimane lo stesso atteggiamento tra me e lui quindi ancora non ci uniamo lì arriverà un po' più tardi diciamo un'unione una frequentazione più importante quando arrivo a Fano non ho niente neanche a Fano ovviamente perché mi lascio con questa ragazza quindi in quel momento lì ti lasci con questa ragazza non hai niente sei in difficoltà ti viene a mancare tua mamma tua nonna tuo fratello non hai mai pensato di fare una grande cazzata? no no perché se a un certo punto mi sono detto ma finirà questo momento perché in quel punto è una cosa difficile da spiegare ma pensi che possa succedere qualcos'altro che sottotitoli davi a questa cosa? sfiga sono una persona sfortunata cioè credi in Dio? se io come noi tutti siamo una manifestazione di Dio credo in me stesso che mi è molto più facile perché sono molto più vicino ma parlavi guardando il cielo non parlavi mai a sono molto programmatico anche nella disgrazia io per esempio mi sottraggo dalla disgrazia non l'alimento cioè il protagonista è chi muore non il parente oggi viviamo in tempi in cui i parenti vanno in televisione per anni o addirittura entrano in politica dopo una morte di un parente io non sono così non giudico però il protagonista era mio fratello il protagonista era mia madre quindi io non ho mai parlato mi sono sempre sottratto una volta mi fa ridere una cosa al funerale di mio fratello dissi ad un amico che era venuto dopo dove andiamo a mangiare ma andiamo ad Andrea facciamo cena ad Andrea io non dicevo sul serio cioè sapevo per primo che la vita andava avanti e mi ricordo che questo mio amico mi mise il braccio su sulle spalle per dirmi sì Simone sì come se fossi matto quindi lì capì che bisogna essere normali ogni tanto farsi vedere normali per essere per essere accettati sei arrabbiato con Luca per quello che ha fatto che sentimento provi nei suoi confronti? di mani e tenerezza anche perché poi sai poi si dice se l'avessi saputo se gli fossi stato più vicino sono tutte cose che servono per per consegnarci un senso di colpa che che non abbiamo io non avevo nessun mezzo per poter capire nulla o qualsiasi cosa quindi ci provi no? perché viene automatico dove ho sbagliato poi crescendo o incontrando studiando capendo ti accorgi che non potevi fare niente non mi sarei mai accorto tu lo ami? sì 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 io amo lui amo mia madre ovviamente l'immagine che ho di loro ecco questo sì andiamo avanti hai 31-32 anni ritorni quindi dopo l'esperienza specialistica a Roma dove facevi il lavapiatti insomma dove facevi quello che hai spiegato ritorni a Fano non hai nulla ci eravamo soffermati su quel punto esatto e come prosegui? proseguo che mi ospita un mio amico Andrea non mio fratello che anche lui era ancora Fano nel frattempo Andrea mio fratello era ancora Fano sì però adesso c'è un'omonimia invece il tuo amico che ti ospita si chiama Andrea mi ospita l'unico posto è uno sgabuzzino quindi di due metri per un metro e dormo per terra ed al frattempo ho trovato un altro lavoro velocemente da Berloni Cucine dalle mie parti le aziende di mobili sono importanti quindi lì lavoro c'era inizio a lavorare lavoro lì per un anno un anno e mezzo nel frattempo studio leggo guardo film solito discorso ma nel frattempo conosco una ragazza di Milano qua cioè qua scusami a Fano io sono a Fano in questo momento e faccio la spola ogni tanto come si chiama questa ragazza Salima una bravissima ragazza sarà contenta che la cito quindi la venivo a trovare a Milano anzi lei stava sul parco del Ticino cinovigevano da quelle parti in mezzo alla campagna e un giorno mentre sono da Berloni mentre carico un friori fermando un messaggio mi diceva passavo qua a Milano ho visto un cartello che dice il Fondo Sociale Europeo organizza un corso di tecniche di redazione televisiva perché non lo fai? e io subito gli chiedo cosa richiedono il diploma lo sai che non ce l'ho poi ci penso dico sai che c'è è un beffato sì lascio tutto mi trasferisco da lei come feci a Roma con altre ragazze diciamo e faccio questo corso autocertifico di avere il diploma porto il mio libro quasi di scolpa un nuovo diploma ma ho questo quello scubrik sì mi prendono faccio tre mesi di corso risulto il più sveglio avevo ragazzi un po' più piccoli di me laureati io ero più grande ma non laureato e quindi vinco tra virgolette uno stagio in Magnolia ce n'era uno solo e inizio a lavorare in Magnolia 2003 2003-2004 sì inizio a lavorare per essere setata non so se te lo ricordi però io ero un rompipalle perché ero un stagista 34enne senza Laura senza diploma no col diploma sì però avevo ero pieno zeppo di teoria quindi io rompevo le scatole a tutti dicevo no montalo così no la musica qua e non mi sopportava nessuno dopo un mese circa scopro Camera Caffè nel senso che non la guardavo ma scopro che di fianco negli uffici dove lavoravo io c'era Camera Caffè che era coprodotto da ITC da Caschetto e da Magnoglio giusto bravissimo e imparano tutti bene di Christophe Sanchez che era produttore demi-org regista autore eccetera eccetera ma al contempo tutti dicono no tratta male no è uno stronzo a me queste cose piacevano più mi dicevano questa cosa e più mi interessava conoscere questa persona quindi vado come per andare nella redazione di SSA in realtà vado sei e mezza del mattino dritto a Camera Caffè pensando di non trovare nessuno ma lasciando un copione di Camera Caffè io non l'avevo mai vista l'avevo vista la sera prima insieme alla mia fidanzata pensando di capire qualcosa provo a scrivere un copione entro pensando di non trovare nessuno invece trovo Christophe steso su un divano che fumava una sigaretta alle sei e mezzo del mattino e faccio mi scusi no non ti preoccupare entra avrei un copione ok lascialo pure lì lo lascio lì e me ne vado alla sera a mezzanotte ricevo una chiamata ed era lui ciao Simone pronto? sì sono Christophe Sanchez ah e ho letto il tuo copione si capisce che non hai mai visto a Camera Caffè però ci vedo del talento ti va di venire a fare un colloquio? sì quando? non so verso l'una ce la fai di notte ovviamente arrivo verso l'una e mezza alle due di notte e lui è lì e mi dice guarda secondo me sei bravo ti va se ti prendo ti do 4 mila euro al mese 400 euro a copione più la casa pagata wow puoi immaginare come stavo mi ci pensare un attimo sono già qua esatto fino a qualche mese prima lavoravo da Berloni quindi uno switch esatto e io gli ho detto ovviamente di sì e ho iniziato a lavorare lì abitando a Milano in questa casa pagata da Magnolia dove vai a vivere con la tua fidanzata? no la mia fidanzata rimane in campagna in campagna sì è stata una bellissima esperienza perché ho imparato un sacco di cose ho capito che criticare è molto facile fare è molto più complicato tenarsi nella pratica è un altro mestiere esatto lì ho proprio definitivamente capito che non era il mio mestiere quello di fare il critico che vai a fare l'autore tu per Camera Caffè vado a fare lo sceneggiatore lo fai per Camera Caffè lo faccio per un anno e mezzo poi cambia la produzione se ne va Cristò se ne vanno le pedine secondo me più importanti fino a quel momento quindi non voglio più di di stare lì perché io spesso mi leggo a un uomo a un leader che mi fa fare un pezzo di strada con lui poi se questo leader non c'è più si ferma il treno scendo quando non c'è più o quando penso di aver capito tutto quello che mi serviva quindi me ne vado finisco tutti i soldi non ho più casa un'altra volta rinizio da capo quando finisci tutti i soldi come li spendi? perché non li avevi mai guadagnati forse guadagnavi un quarto di quello stipendio mille qualcosa euro ne guadagni 4.000 come li spendi i tuoi soldi? ce ne niente di trascendentale no 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 niente di trascendentale permettendoti dei lussi che non sei mai potuto permettere sì che non potevo permettere sì non sono uno che mette da parte ok cioè adesso sto iniziando a capire che forse la mia veneranda età è ora che inizia a diventare più serio e quindi torno diciamo in mezzo alla strada abito un po' in via Padova un po' da un amico non avevo più niente ma non avevi lavori? non avevo lavoro e perché lo lascio e quando lo lascio non penso non ho lavoro lo lascio perché se non voglio più farlo come la scuola non lo faccio però mi presento da film master con la nomea dell'autore di uno dei programmi più successo di Mediaset parli di camera caffè sì e mi aprono le porte al tempo si sta aprendo la struttura di film master television e a me danno la responsabilità di gestire di costruire di creare di far crescere la parte relativa alla sitcom ok quindi scriviamo un sito sul sitcom a un certo punto mi assegnano un'assistente quell'assistente dopo un tot di mesi se ne va e gli chiedo dove va e mi dice vado a lavorare con Andrea Pezzi e succede che mi fa un click la testa che Andrea Pezzi faceva OVO in quel momento bravissimo e mi spiega vado a lavorare da lui che cosa fa OVO è una sorta di wikipedia per immagini una televisione con documentari sullo scibile umano di tre minuti l'uno ok a me Andrea non me lo ricordavo dai tempi di MTV quindi mi piaceva come e lo volevo conoscere ma lei capendo il mio diciamo arrivismo perché se c'è qualcosa che voglio fare la faccio non c'è niente da fare non mi ferma nessuno non me lo dice non mi dà il numero di telefono niente quindi non riesco a conoscerlo ci arriva in un altro modo e arriva lui attraverso il suo braccio destro di allora gli dico sono Simone vorrei conoscere Andrea se è possibile perché lo stimo perché eccetera eccetera va bene organizziamo un pranzo facciamo un pranzo lì in zona via Maroncelli lo conosco e ci piacciamo stiamo a pranzo un'oretta e poi mi chiede quanto vuoi cioè lui mi vuol assumere non chiede curriculum non chiede niente guarda io prendevo 120 mila euro all'anno ok va bene ti diamo questi soldi ma lui scoprò dopo che non mi credeva ti dirò non avevo neanche i soldi per pagare il pranzo fortunatamente lui anticipa ovviamente offro io non ti preoccupare poi passano dei mesi e ci sentiamo epistolarmente diciamo perché Ovo ancora deve partire io spero sempre che mi abbia preso davvero perché non ci ha firmato niente non c'è una carta e allora io gli rompo sempre le scatole gli mando copioni di documentari che non so se serviranno meno ma gli faccio vedere che sono attivo fino a che il settembre questo non ricordo del 2007 inizio a lavorare per Ovo e sono direttore editoriale e quindi devo formare una redazione che non c'è faccio non so quanti centinaia di colloqui sono da solo e trovo 70 persone nella redazione nel giro di un mese quindi faccio centinaia di colloqui assumo quelle persone e poi da lì parte divento anche direttore delle produzioni poi direttore creativo inizio a occuparmi dei video cosa che mi piace ancora di più e da lì quello che è successo è quasi storia avevi mai viaggiato fino a quel momento fuori dall'Italia? io non ho mai viaggiato ho mai fatto vacanza con i genitori mai andato a pranzo a cena con i genitori fuori di casa quindi ho viaggiato soltanto nel 92 a Sharm el Sheikh perché la fidanzata del tempo un'assicuratrice visse un premio come migliore assicuratrice della città di Fano e questo premio era un viaggio a Sharm el Sheikh per due persone quindi io andai con lei e fu il primo viaggio però non ti ho detto una cosa fondamentale io ho fatto un altro lavoro meraviglioso secondo me quando nel 93 finisce tutto quel lavoro con la Renault con gli Spogli non va bene io prima cosa vado in Inghilterra è un classico negli anni 90 soprattutto e faccio il lavapiatti poi da lì mi sposto a Southport poi però da lì volo prendo un aereo e vado alle Canarie a Tenerife nello specifico e a Tenerife la sto a tre mesi prima di finire i soldi come al solito cosa faccio a Tenerife faccio l'OPC io non ho mai capito non so cosa voglio dire non so neanche io cosa voglio dire OPC di che cos'è l'acronimo però ero non so se ci sono ancora uno di quei ragazzi che rompevo le palle i turisti per strada per vendergli la multiproprietà l'appartamento in multiproprietà cioè fermavi la gente che camminava per strada tutti gli italiani o spagnoli quindi con cui riescevi ad avere un dialogo anche perché non c'era uno stipendio e quindi l'avessero a provvigioni esatto quindi lo dovevi fare per forza sennò facevi la fame e alle Canarie al tempo a Tenerife si faceva ce n'erano molti che la facevano è molto formativo molto formativo perché dovevi fermare pensa è gente che non conoscevi Playa de las Americas che è una via importante di Tenerife lì c'erano probabilmente 1500 OPC quindi ci si faceva concorrenza vicendevolmente gli OPC da tutto il mondo quindi varie lingue io fermavo principalmente gli italiani e molti per precederti andavano a prenderli l'aeroporto addirittura si mettevano fuori dall'aeroporto vedevano dei turisti che arrivavano con le valigie li dovevano convincere li dovevamo convincere a salire su un taxi pagato dall'azienda per cui lavoravi nel mio caso si chiamava Santa Monica io avevo un tesserino che certificava il fatto li caricavi sul taxi faceva un viaggio di 25 km in autostrada con loro li portavi al resort magnifico con campo da golf dove lì gli facevano una testa così per due ore c'era buffet c'era tutto per due ore per vendergli immediatamente la multiproprietà e quindi la provvigione la prendevi sulle coppie che portavi al resort perché davano subito un acconto sì 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 ma poi c'erano delle cose delle riunioni con centinaia di persone oggi uno di voi sotto a 500 pesetas e tu mettevi la mano sotto sarei fortunato quindi questa roba pensa che chi gestiva tutta questa roba era un italiano un pugliese che poi ha vinto il grande fratello in Spagna ok l'ho scoperto anni dopo ma era tutto reale? perché me ne parli con sì era tutto reale poi ho scoperto anni dopo che era tutta una truffa quelle case non diventavano davvero loro affittavano allo stesso periodo a più persone la stessa casa quindi un casino pensa che i più bravi erano gli ero in omani pur di farsi convincevano anche avevano una favella incredibile incredibile sì e quindi io avevo sia la macchina mi davano sia il motorino quindi potevo spostarmi velocemente e quindi ti dovevi come dire inventare un modo per portare la coppia al resort prima degli altri e quindi io mi ero inventato dei grattevinci avevo fatto stampare dei grattevinci tenevo nella sinistra quelli falsi e nella destra quelli veri cioè quello non scusami non vincente sulla sinistra e vincente sulla destra quindi al marito facevo scegliere tiravo dalla tasca a sinistra il mazzo diciamo di grattevinci lo facevo scegliere facevo scegliere il non vincente ah mi dispiace poi andavo via salivo sul motorino poi le richiamavo dicevo dai facciamolo un altro tiravo fuori dalla destra quelli vincenti alla moglie la moglie prendeva il vincente e l'anno dopo avrebbe avuto una vacanza pagata in uno degli appartamenti del resort era vero solo che in quella settimana gli facevano una testa così ovviamente per vendergli la casa è stata un'esperienza molto formativa perché io ai primi periodi mi vergognavo ma dovevo mangiare mi vergognavo ma dovevo mangiare quindi alla fine sono diventato una bestia nel senso che fermavo tutti si ti ha svezzato parecchio si poi impara a riconoscere gli italiani da lontano lei è italiana come fa a saperlo gli italiani e gli spagnoli si assomigliano hanno lo zainetto sulle spalle eccetera eccetera la signora di Torino perché magari prima avevi sentito parlare in dialetto al bar mentre compravano un gelato è stato molto molto bello eravamo a Ovo 70 persone fai un botto di colloqui poi sono diventate molti di più sì e che succede dopo? succede che io faccio il direttore creativo quindi facciamo un sacco di video come va il rapporto con Andrea Pezzi? il rapporto è bellissimo perché diventiamo amici amici nel senso che pranziamo ceniamo abitiamo vicini eccetera andiamo in vacanze insieme dall'altra molto formativo perché Andrea è una persona molto esigente e se da una parte avevo cercato uno come Christophe dall'altra parte diciamo che il prosieguo ok un altro mentore esatto e quindi lavoriamo insieme Andrea si fida molto di me quindi delega molto io mi occupo di dare forma e vestito ai video poi facendo i video mi devo occupare anche dei testi la traduzione dei testi in inglese lo speakeraggio e quindi anche lì quando mi assumono non so fare quello per cui sono assunto poi piano piano facendo finta di niente imparo e lì è successa la stessa cosa con Andrea è andato tutto bene finché un giorno anzi a metà del cammino insieme a lui cambiamo ufficio e nell'ufficio c'è una cucina e io non avevo mai cucinato e mi sono detto perché non provare a cucinare piano 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 cucino cucino tutti i giorni a un certo punto inizio a cucinare per tutti tutti i giorni a pranzo quindi una volta per 20 persone una volta per 30 una volta per l'amministratore delegato di Telecom una volta per il VIP che viene a trovare Andrea una volta quindi anche per gente importante una volta per lo chef stellato non sanno mai chi c'è in cucina cioè il direttore creativo dell'azienda però arrivano a questi ospiti dei piatti che a loro piacciono come impari a cucinare? impari inizio a fare i primi i secondi poi il pesce poi la carne poi i dolci se capita sperimentavi? sì copiavo le ricette in rete le trovavo e le replicavo ok e quindi mi rendo conto mi dicono che sono bravino tant'è che poi arrivano persone importanti a mangiare e io sono quello che cucina per loro ospiti importanti ci sono dili da chiudere magari e allora cucino e ogni tanto vengono in cucina a conoscermi ma io ti ho visto sì sono il direttore creativo quello che hai salutato all'entrata e quindi lì imparo a cucinare finché faccio anche degli hamburger e sembra che vengano bene una mia amica mia collega ha pensato che quell'hamburger fosse così buono che appena ha mangiato che mi regala un libro dedicato agli hamburger con tutte le ricette di hamburger di una famosa catena di hamburger gourmet che si chiama Blend parigina però io vado avanti la voglia il desiderio dentro di me di fare qualcosa da solo è sempre più forte e arrivo fino a un certo punto che dico ok me ne vado perché voglio fare qualcosa mio bene ho un bel TFR che spendo tutto ovviamente nel giro di di poche settimane anche perché dovevo muovermi capire cosa fare cercare qualcosa di nuovo nel frattempo però sono molto legato non penso ancora a quello che poi sarà accaduto al mestiere che ho appena imparato il direttore creativo comunicazione marketing quindi voglio andare a fare un viaggio a New York perché ho preso appuntamento per fare alcuni colloqui nel frattempo sto finendo i soldi abito in via Padova insieme a una mia amica anzi no la casa era mia dopo vado ad abitare con l'amica quello che faccio è ritirare a lucido la casa ridargliela prendere la la cauzione riprendere la cauzione e arrivo tipo a 1600-2000 euro con la cauzione cosa succede? succede che voglio andare in America ma non posso permettermi il viaggio perché poi quando ritorno non ho più niente quindi da buon disperato come scrivo nel libro mi imbarco grandistinamente in un cargo che parte da Genova Pra dal porto la potrei fare lunga i giorni in cui vado al Decathlon per trovare la misa adatta quindi un giobbotto scuro un cappello scuro un pizzetto d'ordinanza cerco di sembrare più possibile uno di loro con uno zaino con dentro un set di vestiti da colloquio e un sacco di barrette energetiche per il viaggio mi imbarco nella stiva di carico mi nascondo lì e sto lì per giorni a un certo punto ho la fortuna che consiste nell'aver trovato lì vicino un container under deck si chiama scopro dopo che si chiama così semi aperto dentro c'è il ben di Dio italiano dal tonno all'acqua San Pellegrino c'è di tutto e quindi io durante il viaggio mi rifucillo anche lì ma durante la notte scopro che non sono l'unico quindi non c'ero solo io in quella nave in modo clandestino esatto perché quel container under deck è aperto più volte lo sento di notte vedo cosa succede eccetera eccetera destinazione della nave? New York era la prima tappa sì porto di New York New Jersey arrivo a New York e ho dei colloqui prendo una stanza condivisa faccio i colloqui mi sembrano andati bene è molto freddo New York perché vicino a Natale è il periodo per farti capire anche se quando parto da Genova mi ricordo che era caldo si stava bene erano circa 11 gradi c'era un bel sole cosa succede? succede che sono tentato dallo stare lì e tornare i colloqui sembrano andati bene ma sai gli americani sono sempre molto gentili faccio per entrare dentro uno Starbucks perché era freddo e volevo ricaricare la batteria del cellulare e cosa succede? succede che mi ferma un barbone cioè io lo guardo un barbone in strada lui mi ferma e mi dice in inglese misto inglese misto francese misto tedesco capisco che mi dice guarda che è inutile che ti cerchi lontano da casa è dentro che ti devi cercare mi dice una roba del genere o io credo di aver capito una cosa del genere poi sto lì ci parlo alcuni alcuni secondi più che minuti 50 secondi diciamo poi mi dice mi dà un piccolo diario ti e lo tu non sono riuscito a farci niente con questo diario provaci tu io lo prendo lì per lì non ci faccio caso però cerco 50 euro gli voglio dare 50 euro anche se non avevo un euro fortunatamente lui non li vuole a tutti i costi mi dà un calcio mi dice di andare via vado allo Starbucks e inizio a sfogliare questo piccolo diario questa piccola agenda dove dentro ci sono tante ricette dei suoi genitori quando ad Hamburg aspettavano la nave delle volte anche per mesi dopo la seconda guerra mondiale per andare in America e spesso loro erano cioè spesso molti per campare lì prima che la nave arrivasse cucinavano per tutti coloro che dovevano emigrare in America stavano lì per mesi e dentro c'era anche una fantomatica come la chiamo ricetta di un hamburger che loro facevano non solo la ricetta dell'hamburger c'erano tantissime ricette però questa cosa mi suona un po' strana perché si parlava prima di hamburger il libro regalato eccetera eccetera quindi quando torno in Italia il mio pensiero si focalizza su una cosa sola che è quella di fare qualcosa di mio non c'ho più un euro notte passate sulle panchine una persona che lavora a McDonald's mi fa mangiare gratuitamente per un sacco di volte perché non avevo soldi per mangiare dove dormivi? prima dormo per strada sulle panchine sulle panchine poi dormo a casa di un'amica sempre via Padova via Padova torna spesso e come ti dicevo sono tornato con in testa solo quella cosa solo di far qualcosa magari sulla cucina ma non volevo mi dicevano che ero bravo a cucinare ma non volevo fare qualcosa che riguardasse la ristorazione perché non sono il tipo che sta in cucina tutta la vita a cucinare non esce mai sabato domenica non ero il tipo quindi la mia idea era quella di fare qualcosa che fosse indipendente da me e scalabile io ero fissato per McDonald's come modello di business al tempo e quindi volevo fare una cosa del genere non ho soldi la prima cosa che faccio è chiamare una mia amica una mia ex che mi aveva conosciuto sapevo che in fondo ero una varia persona e chiedo a lei se ha dei soldi da investire su questo progetto che al tempo forse si chiamava Hamburghi invece di Burghi una cosa del genere cioè è stato il tuo nome provvisorio? sì sì per un po' poi chiamo Martina che poi è diventata la mia socia che anche era anche la mia ex ragazza perché erano le due persone che mi conoscevano da una parte forse lei poteva avere un po' di soldi da investire da una parte Martina era quella che era sempre stata una ristorazione e tutte e due mi rispondono positivamente poi con la prima Simona bravissima ragazza intelligentissima non è andata aveva un carattere un po' particolare forse ce l'avevo io invece Martina è diventata la mia socia è ancora la mia socia e lavoriamo a spalla a spalla tutti i giorni quindi Martina si è trasferita a Milano con pochi soldi insieme abbiamo girato un po' l'Europa per capire quale fosse davvero l'hamburger buono e poi scopri che l'hamburger buono lo fanno in Germania lo fanno in Spagna lo fanno in Francia lo fanno dappertutto tranne che in Italia al tempo perché noi siamo capaci di fare i panini buonissimi ma gli hamburger sono un'altra cosa e allora mi sono detto so fare l'hamburger proviamo a trovare dei soldi un po' li mette Simona un po' un socio che entra che lavorava con me un po' Simona o Martina? Simona ok ma anche Martina io e Martina zero soldi non avevamo un euro poi arrivano altre due persone che erano persone che avevano lavorato con me in ovo quindi mi conoscevano sapevano che erano comunque una persona seria e una dei due ha messo un po' di soldi l'altro mi ha come dire donato un colloquio un incontro con un direttore di una banca dove ho ricevuto i primi 50.000 euro nonostante noi non avessimo poi imparato conoscere questa parola uno storico e quindi alla fine con 50, 60, 70.000 euro abbiamo aperto il primo punto chi ha rilasciato le fideuzioni che ha garantito? io tutti insieme però quello che potevamo garantire non sia nulla quindi abbiamo aperto il primo punto vendita con 60, 70.000 euro in via Savona numero 15 ma costava in realtà 200.000 euro quindi pagavamo in ritardo avevamo 28.000 euro di debiti al mese da pagare primo giorno abbiamo fatto 144 euro quindi puoi immaginare la nostra tensione si chiamava Hamburghi o già? no lì si chiama Burget ma come ti viene il nome? allora potrei dirti mille motivi ne ho inventati un po' ah ok uno perché la Z che noi della mia zona non sappiamo pronunciare bene agganciava tutte e tre le persone Simona Martina e me perché siamo tutti della stessa zona quindi poteva essere una cosa poi mi piacevano i Gorillaz quindi io non mi ricordo per quale motivo se me lo chiede uno dico Gorilla se me lo chiede un altro mi dico quest'altra cosa perché Hamburghi faceva molto italiano io quando Burghez è sbarcato a Milano io ero convinto che fosse una catena americana Burghez assolutamente non ho mai pensato che fosse italiano bravissimo ed è quello che hanno pensato in molti tant'è che dopo due o tre mesi avevamo già richieste di franchising da tutta Italia perché vedevano una comunicazione strana una comunicazione che sembrava più di una grande azienda ma forse solo perché io venivo da quel settore lì non quello della ristorazione e cosa è successo? è successo che avendo tutti quei debiti e la gente entrava ma poco alla volta perché non erano abituati a mangiare quel tipo di hamburger mi ricordo Barbieri un giorno venne e disse che il pane non era buono che dovevano andare a farci fare il pane da un fornaio un sacco di cose negative perché da noi venivano inizialmente quelli che conoscevano quel tipo di hamburger Shake Shack in America Five Guys Neout noi eravamo quella sponda lì non quella gourmet che poi il gourmet non esiste poi questo è un altro discorso e quindi all'inizio è stata dura e quello che volevo fare è come faccio a farci conoscere senza aspettare il passaparola che è una cosa lunga e noi abbiamo un sacco di debiti provo a fare una comunicazione un po' fuori dalle righe e poi ho iniziato a far credere che avessi un'agenzia importante invece ero io che lavoravo dalla mattina alla sera insieme a Martina insieme a mio fratello che non ti ho detto ma nel frattempo ho fatto tornare dal Brasile perché lui era andato in Brasile e stava là e abbiamo aperto noi tre insieme a Simona che da Fano ogni tanto veniva a trovarci e lavoravamo io ho lavorato due anni anche loro lì dentro quindi ho capito benissimo quali erano i problemi le migliorie le operation tutto e di notte quindi pensavo invece alla comunicazione e al marketing da fare e poi per alcuni post un po' strani ci siamo fatti conoscere fortunatamente mi invitavano al tempo c'era credo Matrix la D'Urso un sacco di programmi televisivi e radio ricordo un'intervista per Radio 24 perché la comunicazione era come dire disruptive sì per dirla peggio un po' pesante provocatoria provocatoria sì che anche la censura leggevo non so se l'avevi detto tu o meno che comunque ti stimola molto la creatività non potendo fare mille cose ti porta a pensare in maniera più acuta certo pensa se faccio sempre questo esempio il Papa Michelangelo non gli avesse detto di fare la cappella a Sistina lì in quel modo in quel momento quella superficie eccetera eccetera ma gli avesse chiesto fai quello che vuoi quindi la committenza per me è il 50% dell'opera o della creatività se non hai un committente che è sulla tua linea è complicato la censura è quella che ti mette parallelamente il committente o la società pensare che a Milano è andato in giro un tram che ho scritto Burgess e l'hamburger più schifoso del mondo per me è soddisfacente non per la frase ma perché la parola schifoso in un tram che penetra le vie di Milano è una cosa per me molto strana che all'inizio vorrei scrivere attaccati al tram no volevo scrivere attaccati al tram ma no prima ancora volevo fare la pubblicità a McDonald's però loro non potevano ovviamente perché ce le avevano anche come pianificazione e poi non sarebbe stato possibile quindi diciamo che la comunicazione di Burgess si riassume nel fatto che è inutile che dice che il tuo prodotto è buono come l'hoste dice che il suo prodotto è buono è ovvio che ti dirà che è buono tutti comunicano in maniera molto autoreferenziale quindi tu lo fai esattamente al contrario che vuol dire sempre che è buono assolutamente ma in maniera più creativa esatto non vorrai credere che io pensi davvero che sia schifoso e quindi l'essere disruptive significa semplicemente spesso anche essere onesti noi nel bicchiere scriviamo che questa bibita che stai bevendo è buona ma devi sapere che continui a otto cucchiaini di zucchero è disruptive ma al contempo ti sto dicendo la verità ci sono post che dicono non andare a mangiare da Burgess più di una volta o due a settimana perché ti fa male a parte che non lo penso che fa male perché i nostri prodotti sono di qualità però come dire non fa bene è ovvio mangia anche un'insalata mangia anche un piatto di pasta quindi noi spesso diciamo la verità ma anche il famoso post sulla cassiera filippina che ha fatto tanto discutere e ne ha parlato financo Salvini io semplicemente volevo dire la verità dicevo che non trovavo sì perché tu dicevi nel post che fondamentalmente gli italiani hanno la palestra il martedì hanno il moroso il mercoledì bravissimo è perfetto era un po' per dire che lagnavano tanto e quindi preferisco prendere una ragazza filippina che non pago meno perché esatto e tutti si sono scagliati dicendo ah sì perché i filippini tu li paghi meno no c'è un contratto nazionale uguale per tutti non è questo il problema è che al tempo la voglia di lavorare era quello che tu vuoi dire esatto avevo difficoltà a trovare anche personale italiano e quindi io feci un post mi ricordo così proprio scritto senza pensare oddio quanto sono creativo ma fare un post su una ricerca di personale però un po' più creativo senza semplicemente scrivere stiamo cercando non voleva dire che tu disdegnassi le italiane assolutamente ma era un modo per dire se hai voglia di venire devi aver voglia di lavorare esatto facciamo un secondo un passo indietro perché tu mi hai detto 144 euro di cassa il primo giorno 28.000 euro di debiti al mese e ho bisogno di capire come riesci a come dire a costruire i burghets e parli di comunicazioni disruptive e mi viene da pensare se non avevi soldi dove comunicavi spieghami un attimo questa alchimia la prima risposta è abbastanza semplice non ci pagavamo ok mangiavamo lì dalla mattina alla sera quindi siete lievitati anche sì ma anche adesso poi pagavamo i dipendenti l'unico che avevamo poi abbiamo preso un dipendente ok e le banche i fornitori cercavamo soprattutto l'impresa edile cinese cercavamo di spostare i pagamenti magari di 5 giorni 10 giorni 15 giorni però se tu sposti i pagamenti e quindi cerchi insomma di tergiversare ma a un certo punto se non incassi esatto dopo Burgess però ho iniziato a quando? dopo quanto tempo? abbiamo fatto le prime 1000 euro incasso giornaliero? sì dopo 28 giorni 27 giorni poi siamo arrivati 2000 3000 4000 5000 ma nel giro di pochi mesi quindi sei partito abbastanza velocemente sì passaparola fortunatamente sì perché poi grazie a quella comunicazione ci cercavano tutta Italia abbiamo già i fondi di investimento arrivavano gente che voleva fare franchising noi non l'abbiamo ancora mai fatto non hai fatto entrare in fondo? né fondo ancora né franchising ok tutti i negozi di proprietà e con i vostri soldi esatto poi però siamo stati lì due anni nonostante noi potessimo fare sai quelle aperture forzate tu hai totti di capitale apri forzatamente anche se non c'è richiesto oggi tu vedi adesso non faccio i nomi dei brand per una questione di rispetto ma li vedi a Milano quando entra un fondo aprono dappertutto continuamente in maniera schizofrenica sì cosa pensi di questo? penso che sia una cosa legata molto più alla finanza che all'imprenditoria come oggetto c'è un ristorante invece di qualcosa di più volatile però è una cosa del genere costruisci spesso una bolla che poi vai a piazzare al doppio al triplo qualche anno dopo dell'investimento fatto dal fondo che a sua volta vende un altro che a sua volta vende un altro eccetera eccetera ecco noi non volevamo fare questo errore secondo me errore per altri invece è una soluzione incredibile perché magari se la tua azienda non va questo è o va così e così è la soluzione migliore perché poi ti copri le spalle se arriva la pandemia sei coperto eccetera eccetera eravamo alla comunicazione e dicevo se non avevi soldi come facevi a comunicare cioè come passavi il messaggio all'inizio? su Facebook e su Instagram senza avere un euro il post della cassiera filippina mi costa 8 euro di sponsorizzazione e arriva a tutta Italia poi è ribattuto da ANSA ma anche da altre agenzie fuori dall'Italia e altri 7-8 post che hanno fatto parlare un po' l'Italia senza nominarli perché non voglio cadere ancora in critiche non li ho pagati cioè quindi i media che ti criticavano ti stavano comunque regalando una grandissima esatto mi interessava usare i media una volta per tutte a mio favore che era quello di fare dei post strani per far parlare non avendo soldi per sponsorizzare i post cioè tu puoi fare anche un post nero puoi farli raggiungere milioni di utenti se paghi è ovvio però non era quello il mio caso non avevo i soldi quindi dovevo avere un contenuto forte per far sì che ne parlassero in modo organico esatto per farlo diventare virale esatto torniamo alla scalabilità del business apri via Savona per due anni non apri più altri punti vendita giusto? ti soffermi a quello tari capisci come è l'andamento del business e poi sei pronto a moltiplicare sì per due anni non apriamo niente quando prima ho detto negozi di proprietà intendevo a gestione diretta no? sì gestione diretta non apro più niente fino al due per due anni quindi fino al 2007 il 2007 mi venne in mente di aprire una cosa che avevo già in mente 2017 una cosa che avevo già in mente un format che poi ho chiamato Burgess Go che è solo delivery e takeaway non c'è sala perché pensavo che il delivery sarebbe stato il futuro quindi prima dell'avvento appunto di tutti i player di delivery molto prima un'azienda molto importante una multinazionale che si chiama Rocket Internet vede questa cosa vede Burgess Go gli interessa ci propone di entrare in società nonostante noi avessimo ancora solo due punti barra tre per un investimento molto importante per un'apertura di 200 punti vendita in Europa di Burgess Go che non accetto perché volevo andare ancora a imparare a fare le cose da solo apriamo dopo due anni secondo il terzo punto uno è Burgess Go l'altro è in Via Ustac che è un punto invece un po' più grande e poi da lì piano piano abbiamo iniziato ad aprire ogni punto vendita andava bene da solo quindi non era forzato se andava bene ne apriamo un altro se andava bene ne apriamo un altro fino ad arrivare ad oggi per te il marketing ha supportato il prodotto però poi se il prodotto è una merda se lo amplifichi è una grande merda quindi il prodotto oggi regge è buono e la gente ci torna quanti punti vendita hai aperto? 20 dislocati in varie città sì da Milano fino a diciamo Verona passando per Brescia Como poi Genova Bologna Roma Napoli ah ok quindi sei andato giù Roma Napoli e funziona giù? allora a un certo punto decidiamo perché noi cosa è successo? è successo che abbiamo passato la pandemia probabilmente l'unica catena a Milano non solo da sola senza fondi dentro quindi è stato molto complicato poi dopo la pandemia non bastante è arrivata la guerra quindi l'innalzamento dei costi dell'energia l'innalzamento di tutti i costi dei fornitori dal pane alla carne qualsiasi cosa pensa che la carne è arrivata a costare il doppio e tu non ti puoi certo permettere di vendere un panino al doppio o quasi quindi hai abbassato la tua marginità sì e nel frattempo usciti dalla pandemia abbiamo detto sai che c'è facciamo entrare qualcuno non si sa mai come andranno le cose abbiamo visto un sacco di fondi interessati ci siamo focalizzati su uno solo e poi dopo un tot di mesi di due diligence di cose non abbiamo trovato la quadra e non si è fatto niente nel frattempo però avevo aperto diversi punti vendita velocemente per alzare la quotazione di Burgess quello che dicevamo prima sì e l'unico errore che ho fatto è stato quello di aprire in una zona sbagliata di Napoli ok infatti noi in questo momento lo abbiamo chiuso perché stiamo cercando di aprirlo in una zona diversa più vicino all'università cosa significa una zona sbagliata la pedonabilità la cultura no la zona sbagliata è nello specifico una zona troppo turistica ok va bene McDonald's per la zona turistica o Burger King perché vieni da fuori e li conosci li riconosci ok Burgess è prettamente italiano però costava poco però dovevamo farlo però la zona comunque è figa l'insieme di cose l'abbiamo fatto poi ci siamo accorti che andava bene ma non come avremmo voluto perché a Napoli c'è una grassissima richiesta di Burgess e ci sono tanti possibili futuri affiliati e quindi abbiamo deciso di fermare il punto vendita e adesso stiamo cercando una zona vicino all'università anche perché è una città molto importante sì importantissima come affluenza come turismo come tutto esatto Napoli è importantissima ed è una delle città per noi probabilmente più importanti per il futuro prossimo ok rimarrà in Italia cioè pur avendo apparentemente nel DNA questa parte internazionale ma rimane in Italia come strategia intendo come strategia ci continueremo a ampliare in Italia ma parallelamente abbiamo diverse richieste dalla Spagna dagli Emirati Arabi dall'Inghilterra quindi probabilmente ci affaceremo quasi sicuramente agli Emirati Arabi perché sono già arrivati tutti là non lo potremmo fare da solo perché aprire uno store ti serve un partner in loco esatto strategico in loco e non solo strategico quando tu hai detto ho cercato un fondo li hai cercati tu ti cercavano loro o un mix delle due cose? ci hanno sempre cercati ma noi abbiamo sempre risposto picche perché il mio interesse era quello di far da solo il più possibile ho una domanda sì coloro che ti cercavano avevano mai assaggiato il tuo prodotto? guarda questa è una bella domanda perché secondo me il 70% no quelli colpiti della comunicazione? sì quelli fuori da Milano quasi tutti no ma venivo a incontrarmi per capire chi era questa persona strana che aveva fatto queste cose qua e volevano investire per la comunicazione poi assaggiavano il panino perché io li obbligavo non mi sedevo al tavolo senza che loro assaggiassero l'hamburger e dopo si andava avanti sul discorso però molti venivano solo per la comunicazione quanto fatturi adesso? sui 13 milioni tu hai parlato di scalabilità prima il fondo ovviamente vuole comprare un qualcosa sì che può decuplicarsi nel tempo e potrà rivendere ma discalabile quindi non ad personam esatto perché ti dico questo? perché tu hai sempre mutato hai cambiato lavoro continuamente ti sei un po' rotto le balle a un certo punto e facevi sempre l'in cioè guadagnavi 10.000 euro al mese con Andrea Pezzi poi raccimoli i tre mesi di cozione per andare su una nave cargo e quindi ogni volta cambi lasci tutto come sei messo da questo punto di vista adesso nel senso il fondo ti obbligherà credo per due anni tre anni a rimanere dentro o hai già costruito una struttura che ti potrebbe permettere di uscire anche velocemente sempre che tu ne abbia voglia no quasi mi obbligano a rimanere mi sembra abbastanza normale vogliono il fondatore i fondatori ma soprattutto sono stralegati al marketing non vogliono perdere soprattutto quello ma un fondo che ti compra vuole anche comprarti la tua agenzia creativa perché non l'abbiamo detto come si chiama la tua agenzia creativa? Upper Beast Side dove lavori anche per il mercato esatto dove lavoro anche per altre aziende no quello no ma magari si contestualizzerà un contratto blindato per il quale io assicuri la comunicazione alla società Burgess per un tot di anni questo sì soprattutto di quello hanno paura perché il panino una volta fatto lo fai ok poi però magari quella parte di creatività l'ha o ce l'hai o è più complicato ripeterla e ritrovarla in altre aziende in altri studi ma tu che visione hai per il futuro? Di cosa hai voglia in questo momento? Allora intanto di far diventare è importante Upper Beast Side perché c'è molto margine e voglio mettermici bene con la testa è un'agenzia creativa esatto che è un'agenzia creativa poi un sacco di idee per la testa voglio arrivare a una quotazione decente per Burgess fare un percorso con il fondo con un fondo eventuale ma vuoi anche quotarti in borsa? è una cosa che diventerebbe troppo lunga io non so se ho per questo ti ho fatto la domanda sapendo che hai un tempo di scadenza personale sull'entusiasmo te lo chiedo per questo io l'entusiasmo ce l'ho finché ci lavoro ce l'ho e chi lavora con me lo sa però voglio prima o poi far entrare un fondo di investimento per capire come si lavora con un fondo di investimento quindi crescere un management alto esatto crescere ancora di più attraverso questa operazione per poi avere tutte le skill adatte per un giorno futuro fare qualcos'altro magari sempre legato a ristorazione con un'esperienza evidentemente più importante io non ero ristoratore non sono ristoratore non ero direttore creativo non sono direttore creativo non ero uno che lavorava nell'ambulanza cioè lo ero ma non lo sono io non sono quello che faccio quello che faccio mi serve per diventare uno qualcosa se l'albero si vede dai frutti si riconosce penso di aver fatto qualcosa in questi anni e quindi io non sono legato né a un hamburger io scrivo dei libri non ne abbiamo parlato ma scrivo dei libri legati al marketing alla psicologia soprattutto ne uscirà uno ne ho scritti tre di libri giusto? ne ho scritti in verità cinque io sapevo Ice Watch Chat poi Marketing Luther King Marketing Luther King Reloaded perché il primo era andato bene quindi è uscita un'altra edizione con capitoli in più con un editore hai fatto Marketing Luther King e con lo stesso editore visto che Marketing Luther King è andato bene uscirà un libro che si intitola la rappresentazione del mondo e uscirà in giugno poi ne è uscito un altro dove eri sulla tazza del cesso ah scusami quello è il Vangelo secondo Burger esatto bravissimo quello lì racconta tutta la storia questa qua quella di cui abbiamo parlato alla fine esatto e quindi la gente non sa mai come interfacciarsi con me ma allora lui sa fare i panini o sa scrivere libri di marketing o è bravo autore televisivo esatto quindi è difficile che la gente ti apprezzi ti apprezza sempre nella penultima cosa che hai fatto perché la dimostrazione è che sapevi farla ma nell'ultima anche io ho fatto tantissime cose nella vita all'inizio per sopravvivere no? però c'è una cosa che mi fa battere il cuore il podcast ne è una non sapevo neanche di esserne in grado ma ce n'è un'altra che vorrei fare in futuro cioè io quando ho costruito The Fouse tu sei venuto a me piace fare i posti mi piace farti sognare quando ti porto in quel posto senza parlare ti voglio raccontare tutto semplicemente attraverso le pareti attraverso il mood che respiri in quel momento mi piacerebbe quindi prendere dei luoghi farli diventare qualcosa e rivendere quel luogo o prendere un tram uno scuolabus qualsiasi ambiente e dargli una vita diversa io so che questo mi emozionerebbe molto ma adesso che sono in un periodo un po' stressato non mi posso permettere di cimentarmi in qualcosa di nuovo ma sicuramente è un mio sogno per il futuro mi emoziona soltanto dirlo qual è il tuo? avendo provato tante cose sai cosa ti fa battere il cuore? bella domanda mi fa battere il cuore il risultato finale la meta il gol tutto quello che c'è prima è una sofferenza probabilmente un impegno una competizione al fine di arrivare a quel risultato finale è che dura 4 secondi mi ricordo la prima volta che ho vinto i campionati italiani ho esultato e la felicità è durata 10 secondi 20 secondi un minuto e tornavo a casa dopo aver vinto dopo essere diventato il più forte mezzofondista italiano e già tornavo alla condizione umana classica e mi dicevo adesso cosa devo fare e lì piano piano ho capito che bisogna metterlo in fila ai successi e mai scendere sì perché ne stai preparando un altro e quindi una volta che la cosa l'hai fatta e dimostrato a te stesso che la sai fare perché stare ancora lì? ti capisco molto bene lì parla il tuo essere pragmatico il risultato finale parlano i numeri e non parlo io quindi soffro per mostrarti e dimostrare anche a te stesso credo di esserne in grado in qualsiasi campo soprattutto a me stesso però a un certo punto visto che tu hai 52 anni e io ne ho quasi 47 e sono in una fase della mia vita che non conoscevo di burnout di stress mentale e mi sono reso conto che il tempo e le energie sono limitate e quindi se dobbiamo sempre soffrire per godere pochi secondi io non ci sto più quindi ho cercato di capire lascia stare il risultato finale cosa mi rende felice questo podcast mi rende felice quindi io vivrei oggi li metto ancora io per farlo non mi porta ancora un indotto ma mi rende felice quindi devo lavorare come quando tu leggevi facevi le tue cose che ti piacevano però dall'altra parte e dovevi faticare se no non portavi a casa i soldini ecco io in questo momento pensare di continuare perché mi sono sempre chiesto ma tu Luca dove vuoi arrivare cioè tu continui continui fai i tuoi trofei personali poi non lo dici neanche troppo perché non vuoi neanche essere arrogante quindi che vita vuoi fare oggi io voglio essere felice fare una cosa che mi renda felice a prescindere dal risultato economico che fortunatamente oggi non sono più in all in come ho sempre fatto nella vita quindi oggi ho costruito le mie riserve per permettermi anche quello non credi che sia troppa sofferenza sempre soffrire per arrivare a un risultato e come a un micro orgasmo e poi dover rifaticare anni per un micro orgasmo non è più bello provare a godere tutto il tempo? sì io diciamo che ho fatto un iperbole è ovvio che nel mente del percorso è bello perché poi ci sono tante piccole tappe che sono comunque una vittoria anche quelle però io penso una cosa che la cosa più importante è la motivazione per cui tu fai una cosa ci sono persone che fumano e muoiono di tumore altre persone fumano fino a cent'anni senza problemi una volta una persona mi disse eh c'è quella persona lì fuma e quell'altra si fa fumare dalla sigaretta fumano tutti e due ma la motivazione è completamente diversa quindi se io faccio una cosa perché voglio dimostrarla agli altri non la farei ma mi impegno a farla perché voglio 10 milioni o 100 milioni o faccio entrare un fondo perché voglio subito monetizzare è ovvio che forse poi non starò bene ma se faccio la stessa cosa pensando che l'unico interesse è quello di rendere felice me le persone che mi stanno di fianco e non per fare il figo non per dire ah ho venduto quel fondo lì o mi sono quotato eccetera eccetera è un'altra cosa quindi io credo che è la motivazione che fa star male le persone non ciò che fanno ma perché lo fanno e quindi almeno io mi sono autoconvinto di questo quindi potrei anche sbagliare anzi assolutamente sì però credo che il giusto approccio a ciò che fai sia l'unico modo che ti possa assicurare un po' di tranquillità è ovvio se fai una cosa perché ti obbligano non va bene se fai una cosa perché lo vuoi dimostrare a tua mamma o alla tua fidanzata non va bene se fai una cosa perché pensi che per te va bene e ti rende felice allora quella cosa probabilmente sarà salvifica per te come va l'amore per te oggi? l'amore va benissimo sei felice? sì sto con Arianna una ragazza bellissima bravissima con un sacco di voglia anche lei di lavorare di imprendere ambiziosa ma umile semplice un ragazzo di vecchi tempi con grandi valori con grandi valori e l'ho trovata insomma in un'età abbastanza avanzata pensavo di non riuscirci invece va molto bene figli? figli ne ho un casino ho tutti quelli a cui voglio bene che lavorano per me no non sono appassionato di figli a parte degli scherzi quindi chi sta con me lo sa già prima perché io dico prima magari facevo appuntamenti con ragazze fidanzate nel passato dicevo io non voglio figli è già il primo appuntamento così non prendeva in giro nessuno ci saranno qui pro quo esatto bravissimo ti faccio l'ultima domanda sì un po' meno leggera ma molto introspettiva ti voglio chiedere se hai paura della morte allora sai che molti dicono no un po' un po' sì ho proprio paura della malattia la morte è quasi un passaggio naturale sai come il bambino il feto che nasce lui non avrebbe mai voluto andare via da quella vita dove mangiava stava bene al caldo infatti piange quando esce no una sorta di piccola morte per lui un passaggio da uno stato all'altro io penso che questa morte che tutti definiscono morte non nascita sia un passaggio da un'altra parte magari dove 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 non c'è niente ma volevo fare un po' il poeta ma il filosofo ma mi sa che non c'è niente però sì non ho paura della morte ma relativamente ho molto più paura della sofferenza visto che ne ho visto abbastanza della malattia queste cose qua io per esempio prima che succedesse quella cosa a mia madre non avevo per niente paura poi ero un ex atleta era fortissimo ero stracontrollato dai migliori equipe mediche d'Europa eccetera eccetera quindi ero vincibile dopo che ho iniziato a vedere a portare in continuazione i malati per anni in ospedale lì ho capito che forse è una cosa molto più semplice ammalarsi quindi sì ho paura più della malattia che della morte abbiamo finito grazie Simone grazie a te grazie a te